e buongiorno oggi vlog iniziato effettivamente un pochino tardi però è sabato avevo un po' di tempo finalmente quindi ne ho approfittato per fare le grandi pulizie perché poi nei prossimi giorni sicuramente avrò sì tempo di pulire ma non di fare le grandi pulizie quindi oggi ne ho approfittato per sistemare bene e pulire tutti i piani ho anche già steso le federe le lenzuola per cambiare il letto perché sapete che ormai mi sono fissata con questo copriletto bianco e lo sto praticamente turnando non credo che si dica turnando però lo sto tipo togliendo lavando e rimettendo in giornata da tutta l'estate visto che comunque fa ancora caldo anche se in realtà avrei già voluto farla ieri questa cosa ma c'era poi un tempaccio diluviava quindi non pensavo nemmeno oggi di riuscire a stenderle fuori invece per fortuna è andata benissimo adesso finalmente ho finito così posso passare il resto della giornata con voi e soprattutto riesco un attimo a prendermi un momento anche di restauro per me stessa tra l'altro visto che non ho neanche avuto tempo di fare la skin care ne approfitto per farvi vedere un po' qual è la mia skin care routine della mattina dell'ultimo periodo così vi faccio vedere anche all'opera i prodotti di freshly che sapete è un brand di cosmetica naturale e vegano con cui ormai sto collaborando da diverso tempo mi ero trovata benissimo anche con i prodotti per il contorno occhi e ve l'avevo detto anche su instagram e da un po' di tempo ho iniziato a testare anche tantissimi altri prodotti tra cui quelli che mi hanno inviato circa un besetto fa in occasione di questa collaborazione e come primo prodotto vado a utilizzare l'acqua micellare e questa qui è fantastica perché contiene tra i vari ingredienti anche agastache messicana che ha proprio un'azione anti infiammatoria questa acqua micellare mi piace davvero tantissimo la uso infatti sia al mattino che alla sera basta applicarne un pochino sul cotone poi si va semplicemente a picchiettare e rimuove benissimo sia i residui di trucco che eventuali impurità della pelle per quello la passo sia mattino che sera passiamo ora al secondo step quindi vado a detergere il viso e utilizzo questo detergente che è il rose quartz fascial cleanser e questo qui di nuovo lo utilizzo sia mattina che sera perché oltretutto contiene acido ialuronico vegano che aiuta ad attenuare le rughe comunque le linee di espressione ne basta veramente pochissimo io prelevo sempre due tre pompette e poi vado a detergere il viso e questo detergente mi piace veramente tantissimo perché comunque contrasta anche i segni dell'invecchiamento della pelle e in più va comunque ad agire e a ridurre eventuali macchie come terzo step vado a utilizzare il tonico questo qui contiene aloe vera quindi è anche idratante ma allo stesso tempo è purificante di nuovo ne metto un pochino sul dischetto e poi vado a tamponarlo sul viso a parte che ha un profumo meraviglioso e in estate è veramente una coccola perché rinfresca tantissimo in più ha anche un'azione antibatterica e oltretutto va anche a ridurre i pori e quindi limita assolutamente la produzione di sebo che sapete avendo la pelle mista è sempre una cosa molto importante per me ultimo step e vado a utilizzare questo gel idratante questo qui è il pacific ocean moisturizing gel questo qui praticamente è un gel idratante quindi ha una formulazione anche molto molto leggera è perfetto per le pelli miste e grasse quindi è perfetto assolutamente per il mio tipo di pelle idrata veramente moltissimo senza appesantire la pelle anche questo ha un profumo fantastico e in estate è stato veramente rigenerante applicarlo perché dà subito questo senso di freschezza alla pelle e oltretutto contiene anche un complesso di acido ialuronico che va proprio a idratare e ristrutturare la pelle al tempo stesso e questa praticamente è tutta la mia skin care per quanto riguarda la mattina alla sera invece vado a sostituire l'utilizzo del gel idratante con questo siero che è il blue radiance enzymatic serum che è un prodotto da utilizzare come ultimo step di qualsiasi skin care ed è un prodotto esfoliante e sfoglia veramente in profondità ma è molto dedicato al tempo stesso sulla pelle e ho notato dei grossissimi miglioramenti da quando lo utilizzo perché aumenta tantissimo la luminosità della pelle e allo stesso tempo idrata il viso in profondità e in più riduce anche le rughe quindi sono veramente dei prodotti con cui mi sto trovando benissimo skin care finita veramente sono pochissimi step ma tanto tanto efficaci adesso direi che possiamo decisamente dedicarci al trucco anche se non farò niente di particolare però comunque vi lascio nell'info box il link diretto al sito freshly e vi scrivo anche poi sia qui che nell'info box il mio codice sconto che è chiara it e dà diritto al 25 per cento di sconto su tutto il sito ed è valido sempre per quanto riguarda il makeup anche se voglio fare qualcosa di semplice volevo approfittarne per provare con voi alcuni dei nuovi prodotti che vi facevo vedere anche qualche giorno fa su instagram e che ho ricevuto in regalo da diego dalla palma è la nuova collaborazione con belen già la precedente mi era piaciuta tantissimo e devo dire che anche i prodotti di questa mi ispirano un sacco questa qui per esempio è la palettina occhi e ci sono questi due colori opachi che sono bellissimi ma anche questi quattro shimmer sono perfetti per l'autunno l'altra palettina invece contiene tre prodotti viso blush terra e illuminante in questo caso non credo gli userò oggi perché finché ho ancora un po' di abbronzatura il viso lo lascio molto molto naturale e invece sono molto curiosa di provare i due prodotti labbra quindi sia il rossetto che rimane leggermente più sheer però è sempre sui toni del nude ma mi piace tantissimo anche la matita labbra che è la numero 52 ed è questo nude sui toni del rosa molto molto carino è molto simile ai colori che utilizzo abitualmente e voilà ecco il risultato finale del makeup alla fine ho deciso di non utilizzare la matita labbra perché mi sembravano già tanto carichi gli occhi però ho voluto provare il kajal questo qui è sempre della stessa collezione del numero 39 e devo dire che mi piace tantissimo mi sembra che si sposi molto bene anche con il nuovo colore di capelli perché sì in realtà chi mi segue su instagram lo sa già ma qui su youtube non ve l'avevo ancora detto comunque l'altro giorno sono stata darvis a fare il solito restauro e ho deciso anche di sfurire di un paio di toni cioè di rendere il colore un pochino più caldo un po' più autunnale un po' più sui toni del miele e devo dire che vi è piaciuto tantissimo e anch'io mi ci vedo bene stranamente mi ci vedo meglio così che con il colore chiaro che avevo prima poi non lo so tanto coi capelli sapete che non trovo mai pace però mi sembra che questo makeup e questi colori si sposino bene anche con questo nuovo look poi tanto aspetto di sapere da voi sì avevo detto che non avrei fatto niente di elaborato lo so però ho pensato di approfittarne e provare a fare questo trucco così poi ora che esce il vlog mi potete dare qualche consiglio e in base a quello so se riutilizzarlo perché devo truccarmi per un'occasione speciale e sinceramente questa qui potrebbe essere una bella opzione adesso però aspetto di sapere da voi tra una cosa e l'altra comunque è già ampiamente passato mezzogiorno e io sono molto affamata quindi direi che mi cambio alla veloce così facciamo un salto a prendere il pranzo ma io mi chiedo è possibile che con tutto lo spazio che c'è Neo si debba sempre mettere nella ciotola sopra Tiffany che poi non ha più spazio perché lui li si mette proprio sopra sopra cioè non lo lascia veramente un attimo tranquillo è incredibile Direzione Cidac per il pranzo perché è altra cosa che sicuramente non vi ho detto perché è una novità di quando non stavo più vloggando dei giorni che ero in pausa ma ve l'ho detta sicuramente su Instagram hanno messo praticamente nel reparto surgelati un piccolo bancone con il sushi non è neanche tanto piccolo adesso poi quando arriviamo sempre che sia rimasto qualcosa vi faccio vedere tutto c'è sia il sushi che il poke perché è lo stesso del posto dove vado di solito a prenderlo quindi c'è proprio uno stand del sushi koi all'interno della Cidac e da quando l'hanno messo devo dire che ci sono andata ancora più spesso del solito in più così ne approfitto perché faccio due cose in una visto che mi mancano alcuni prodotti per la pulizia me ne sono accorta stamattina già che sono lì prendo qualcosina per pranzo e in più recupero anche queste cose che mi mancano comunque mi sto rendendo conto solo adesso che era tantissimo tempo che non venivamo alla Cidac insieme perlomeno nei vlog no vabbè anche se è tardi sono stata fortunatissima perché ce n'è ancora un sacco adesso devo decidere cosa prendere appunto ci sono anche i poke e oltretutto mi pare che sia rimasto quello che prendo di solito io alla fine comunque penso che prenderò questo set che è tutto piccante e quest'altro che mi è piaciuto tantissimo l'altra volta missione pranzo compiuta questa volta non farò lo svuoto alla spesa perché ho preso davvero solo due cosine per le pulizie che mi mancavano poi la spesa grossa penso verrò in settimana però già che sono con la mia macchina prima che me ne dimentichi volevo farvi vedere quello che è successo è un'altra cosa che è successa quest'estate sempre nel periodo in cui non stavo registrando video purtroppo ho parcheggiato la macchina una mezz'oretta in un parcheggio ad Aosta e quando sono ritornata a recuperarla l'ho trovata così con questo segno sul paraurti bello bello consistente bello visibile e ve lo faccio vedere un po' perché non ve l'avevo ancora detto e un po' perché vi devo spiegare alcune cose che appunto non avevo ancora avuto modo di spiegarvi qui su youtube adesso però pensiamo andare a casa e quando siamo lì vi spiego tutto con più calma qui comunque passano le ore ma la situazione rimane sempre la stessa anche se Tiffany mi sa che questa volta ha vinto riappaio dopo un sacco anche se voi non ve ne siete resi conto però sto impiegando veramente tantissimo a mangiare ultimamente già io di solito sono abbastanza lenta perché mi prendo i miei tempi però ultimamente c'è da quando ho messo l'apparecchio faccio super fatica ad abituarmi alla mascherina che ho sotto anche quando la tolgo perché ci sono tantissimi fermi e ancora la posizione dell'arcata superiore rispetto a quella inferiore è un po' strana e quindi mi aveva già avvisato la dentista che avrei avuto difficoltà nella masticazione ma non mi aspettavo così tanto cioè pensavo che dopo aver rimosso l'apparecchio fisso sarebbe stato tutto un percorso in discesa invece questa volta devo dire che il cambio di apparecchio e il fatto di aver messo questa mascherina anche nella parte inferiore un pochino lo sto patendo però insomma sono riuscita a mangiare tutto quindi sono contenta e adesso appunto volevo approfittarne per spiegarvi un attimo questa cosa della macchina il 23 luglio nello specifico appunto ho trovato la macchina in questo stato che è quello che mi facevo vedere poco fa e ho condiviso la cosa mettendo un tiktok perché in quel periodo ero in pausa e non stavo facendo assolutamente i video cioè per farla breve ho ripreso il danno alla macchina e nel tiktok vocalmente dicevo appunto che ero sconcertata perché mi ero trovata la macchina così ed è un danno bello consistente e mi sembrava anche un po' surreale che l'altra macchina che appunto l'ha causato evidentemente una macchina nera sembrerebbe ma non sono sicura perché credo che sia saltata via la carrozzeria del tutto non lo so dovrò chiedere poi bene al carrozziere e vi farò sapere anche su questo comunque mi sembrava surreale che l'altra macchina non si fosse accorta di avermi fatto un danno del genere sicuramente e molto probabilmente in un parcheggio questo è quello che mi ha detto il carrozziere perché ero parcheggiata a spina di pesce si dice sì dovrebbero essere i parcheggi a spina di pesce e lui mi ha detto probabilmente nel fare retromarcia l'altra macchina ha chiuso troppo la manovra e quindi ha colpito i paraurti della mia macchina adesso indipendentemente da questo perché sono cose che possono assolutamente capitare considerate che la volta per fortuna l'unica volta per ora che è capitato a me mi è successo in un parcheggio che facevo 2000 volte al giorno tipo tutte le mattine tutte le sere era un parcheggio dove parcheggiavo sempre quella volta ero sovrappensiero non ho preso bene le misure e mi è successo una cosa simile avevo fatto un danno un pochino meno evidente all'altra macchina mentre la mia va bene non pensiamoci però ovviamente io subito dato che mi trovavo in prossimità di diversi negozi ho preso e ho iniziato ad entrare nei bar sono entrata nell'agenzia di viaggi cioè sono entrata in tutti i negozi che c'erano nella zona finché non sono riuscita fortunatamente a trovare il proprietario che poi è stato gentilissimo all'epoca ci siamo scambiati i dati e tutto siamo riusciti a risolvere la cosa però mi è sembrato il minimo quando mi è successo una cosa simile mettermi almeno a provare perlomeno a cercare il proprietario poi mi è andata bene l'ho trovato altrimenti avrei semplicemente lasciato un biglietto con i miei dati e con delle scuse quindi quando ho registrato questo breve tiktok ho proprio espresso tutto il mio disappunto e tutto il mio sconcerto perché per me era surreale che chiunque avesse fatto questo danno non si fosse degnato neanche di lasciarmi un biglietto vabbè non mi ha cercata che comunque ero lì nella zona può non avermi trovata ma io non ho trovato neanche un biglietto sulla macchina e la cosa che mi ha sconcertata ancora di più sono i commenti perché poi il tiktok è andato virale quindi ha ricevuto tantissime visualizzazioni non so dirvi il motivo perché era veramente una cosa semplicissima di forse tre secondi però ha ricevuto tantissime visualizzazioni ci sono un'infinità di commenti e mi ha lasciato molto perplessa che in tanti abbiamo la stessa visione della cosa ma tanti altri hanno lasciato dei commenti quasi deridendomi e prendendomi in giro per aver pensato che fosse normale lasciare un biglietto di scuse e cercare di rimediare a un danno quindi la percezione nella maggior parte dei commenti è quello che mi ha molto 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 scioccata è stata quella che fossi io che cadevo dalle nuvole che vivevo in un universo parallelo dove bige evidentemente l'educazione o comunque anche solo il senso civico di dire se rovino una cosa assolutamente è il mio dovere ma proprio dovere come persona trovare il modo di rimediare e ripagare a quel danno che poi non è un problema del danno in sé di quanto sia ingente o no è proprio la questione del principio no se si iniziano a giustificare comportamenti del genere magari prendendo di mira e prendendo in giro chi invece vuole comportarsi in modo corretto poi è normale che si verificano determinate cose che sono assolutamente io non vi ripeto i commenti perché in nessun modo mi voglio associare alle cose che ho letto anzi ho poi anche ribadito il concetto meglio su tiktok facendo proprio un paio di tiktok dedicati perché un'altra cosa sconcertante che ho letto era riferita al fatto vabbè cosa vuoi che sia sono 300 400 500 euro di danno col fatto che comunque ti compri tante cose costose per te non è un problema pagarli ma non è neanche questo il punto non è neanche questo il messaggio che secondo me bisogna mandare perché indipendentemente da chi sia il proprietario di un oggetto che sia una persona che magari ha determinate possibilità economiche o che non lo sia assolutamente non è giustificabile un comportamento del genere e nessuno deve sentirsi autorizzato o legittimato leggendo cose del genere ad andare a distruggere o a causare anche solo un danno per quanto ingente o no possa essere alle cose degli altri io veramente ci tenevo perché quest'anno più che mai in assoluto ho cercato veramente ve lo dicevo anche nel video ask ho proprio cercato di veicolare messaggi il più positivi possibile e ho davvero necessità che anche voi mi aiutiate in questo senso perché è molto importante anche capire che non solo chi si espone deve mandare un messaggio positivo ma anche chi commenta o chi interagisce con un creator con un influencer con chiunque sul web anche con un suo amico è sempre importante valutare quello che si scrive e cercare di mandare sempre un messaggio positivo perché se io cercavo di mandare quel tipo di messaggio tramite il tiktok e poi ci sono commenti in cui vengo canzonata e derisa per aver cercato di mandare un messaggio positivo poi passa sempre quello che io non vorrei che passasse quindi vi chiedo veramente sempre tantissimo aiuto in questo e non è tanto per il danno poi quando avrò finito con l'assicurazione perché io la casco eccetera bisogna capire la franchigia le solite cose ovviamente il danno lo riparerò e pazienza ormai è successo sono cose che capitano a me ha lasciato sconcertata l'inciviltà e l'ineducazione di non aver lasciato neanche un recapito e non averne anche posto delle scuse perché io non sono fatta così e a me è capitato una volta sola invece a mio papà o comunque ai miei genitori a Milano è capitato un pochino più spesso e hanno sempre lasciato il biglietto o comunque hanno sempre trovato il modo di rintracciare il proprietario del veicolo per ovviamente contribuire oltretutto è anche un danno che dispiace fare perché poi la macchina va tenuta in carrozzeria lì andrà staccato il pezzo a quanto mi ha detto ci vorranno 3-4 giorni quindi diventa anche un danno in termini di tempo e di organizzazione perché poi la macchina va lasciata lì e bisogna trovare una soluzione sostitutiva perché 4 giorni ferma lo sapete oltretutto non abito comodissima rispetto alla città perciò non sto fermandoci su questo veramente la cosa che di più mi ha sconcertata è stato poi leggere questo tipo di commenti che appunto non starò a ripetere però davvero vi rinnovo tantissimo la richiesta di aiuto nel cercare di sostenere i messaggi positivi che in qualche modo tutti proviamo a veicolare anche attraverso dei video banali o dei video di 5 secondi che però in qualche modo magari possono servire a far luce su determinate dinamiche per fortuna comunque sono stata molto sollevata soprattutto quando ho messo i tiktok successivi di vedere che in tanti la pensiamo comunque allo stesso modo e io in ogni caso ci tenevo anche a ribadire che dovesse ricapitarmi adesso speriamo di non fare danni a nessuno e cose del genere e di non essermela autogufata però nel caso in cui dovesse ricapitare perché può succedere ribadisco è una cosa normalissima però mi dovesse ricapitare di causare un danno a qualcuno anche se nei miei confronti non ho ricevuto lo stesso trattamento io in ogni caso lascerò sempre il biglietto o cercherò in qualche modo di rintracciare il proprietario appena avviene il danno anche perché è una cosa che andrebbe proprio contro i miei principi comportarmi diversamente solo perché nei miei confronti non ho ricevuto un comportamento educato allo stesso modo però io voglio sempre cercare di mantenermi salda ai miei principi e comportarmi secondo quelle che sono le mie abitudini tornando invece a cosine un pochino più leggere scusatemi per questa parentesi volevo farvi vedere perché ieri ho ricevuto un altro regalo di compleanno sempre da un mio amico che non abita in zona anche in questo caso ve l'ho fatto vedere su tiktok ma qui non ve l'avevo ancora fatto vedere aspettate che la collanina non vuole collaborare e magari tolgo anche questo ho ricevuto questo bellissimo punto luce con la catenina super sottile dorata sta facendo un sacco di riflesso non so così forse si vede meglio però c'è questo punto luce rosa che non sta collaborando è davvero bellissima forse su tiktok si vedeva meglio però appunto non vedevo loro ho aspettato fino ad oggi di fare il vlog per poi farvela vedere e iniziar ad indossarla già da domani che oltretutto sarà una giornata molto speciale sarà una bella domenica e rimanendo in tema di cose che non avete ancora visto l'altro giorno sono stata a milano e sono riuscita anche a passare da Louis Vuitton a ritirare una cosina che avevo ordinato che anche in questo caso avete sicuramente già visto ma appunto ancora non qui su youtube comunque ho trovato finalmente questi orecchini che sono bellissimi sono tipo a forma di girandola non so neanche spiegarvi e sono molto carini perché hanno questa chiusura super particolare magari se ve li faccio vedere indossati si capisce un pochino meglio anche se poi appunto li tolgo perché li userò solo per uscire però sono di quelli come si chiamano clip on no non credo che si chiamino clip on però praticamente se riesco senza specchio mi sono messa a fare questa cosa ma non sarei io altrimenti ok forse ce la sto facendo esatto si chiudono in questo modo e rimangono così quindi la parte dorata rimane sopra e tutta la parte colore argento rimane sotto mi piacciono tantissimo poi sapete che sono state in fissa con gli orecchini fatti così per un sacco di tempo ma era anche tanto tempo che non ne compravo più quando ho visto questi me ne sono innamorata e li ho ordinati subito e a proposito di Milano sono passata anche da Zara e ho cambiato alcune cosine che non ci convincevano e visto che ho ancora almeno una mezz'oretta libera prima di mettermi al computer e rimanere lì fino all'ora di cena ne approfitto così vi faccio vedere anche questi nuovi acquisti e mi fate sapere se ci convincono di più perché appunto ho fatto i cambi anche in base a quello che mi avete scritto qui nei video ma soprattutto a quello che mi avete detto su Instagram per prima cosa ho preso questa maglia che vabbè in questo caso penso sia proprio tipo creata appositamente per me perché rimane molto molto asimmetrica praticamente da una parte è fatta canottiera e dall'altra invece ha la manica lunga oltretutto fatta proprio a mo' di camicia è tutta ricciatina ha la sua cerniera sul lato ed è nera sì perché ultimamente lo vedrete mi sono un po' fissata anche con il nero perché tutte le volte che lo indosso mi fate tantissimi complimenti e quindi mi sto un po' autoconvincendo anch'io comunque questa qui l'ho pagata 25,95 e ho trovato l'XS e tra l'altro mi piacerebbe affinarla con questi pantaloni che secondo me non metteranno d'accordo i gusti di tutti ma ultimamente questo tessuto mi piace un sacco sono leggermente grandini quindi dovrò riprenderli esattamente come ho dovuto fare con quelli rossi che vi erano piaciuti un sacco in uno degli ultimi video haul e questi qua sono fatti più o meno con lo stesso principio quindi super morbidi questo effetto simil seta molto carino sono tutti belli larghi sul fondo hanno anche questa cucitura che crea una sorta di risvolto ma che per noi sarà solo un vaghissimo ricordo perché sapete che mi stanno sempre lunghissimi quindi devo accorciarli e mi piaceva tantissimo non solo il tessuto ma anche la fantasia infatti mi piacevano così tanto che anche se l'XS non era più disponibile ho preso la S e poi appunto li farò stringere per il resto sono super super semplici hanno le due tasche sul retro e tutti i passanti che trovo che sia una cosa sempre comodissima questi li ho pagati è qui davanti 79,95 continuando nel sacchettino piccolo piccolo ho preso anche questi altri pantaloni che invece sono un modello decisamente più classico e secondo me perfetto per tante occasioni soprattutto magari per le occasioni un pochino più formali per l'ufficio e sono adatti anche alla stagione proprio per il tessuto con cui sono fatti sono semplicissimi rimangono molto più faccianti rispetto a quelli che utilizzo di solito e sono il classico modello con la riga centrale però è solo stirata insomma sono un modello classico del pantalone da completo non so perché mi sto perdendo via a fare le mie solite descrizioni assurde chiusura molto comoda e molto carina ci sono le pants sia sul retro che sul davanti e poi c'è anche questa piccola taschina molto carina con il bottoncino nero questi qui ho trovato l'XS e li ho pagati 39,95 e questo sacchettino è praticamente finito ho preso ancora questa maglia bianca super super standard super semplice queste qui sono proprio quelle che io utilizzo in qualsiasi occasione e poi mi piace un sacco il fatto che sia di cotone normale abbinata però a questa parte che è un pochino di un tessuto diverso ora si è sroppicciato un sacco quindi spero che stia rendendo lo stesso però è molto carina molto semplice e allo stesso tempo ha il dettaglio di queste mega spallone che mi piacciono sempre e in più vanno ad impreziosirla un pochino questa qui ho trovato la S e l'ho pagata 12,95 invece secondo sacchettone un pochino più pesante cerco di farvi vedere tutto intanto c'è subito un completo che trovo carinissimo per l'autunno e soprattutto per questo periodo perché il colore è meraviglioso per far risaltare l'abbronzatura di nuovo il tessuto è sempre questo simil seta molto carino molto fresco però è leggermente più pesante rispetto a quello rosso di cui vi parlavo prima e appunto mi piaceva moltissimo sia la forma perché rimane con la manica corta ma con questo taglio molto carino poi ha questo scollo sul davanti che mi piace un sacco ha l'intreccio e poi sul fondo è tutto bello elasticizzato come piace a me è semplicissimo liscio e l'ho pagato 25,95 ho trovato l'XS e il completo quindi la parte sotto è composta invece da questi pantaloni che di nuovo sono lo stesso modello e lo stesso principio di quelli che vi facevo vedere poco fa ve l'ho detto ci sono proprio assolutamente in fissa in questo caso hanno anche le due tasche laterali pants sul retro senza tasche e poi la classica chiusura sono proprio a campana a palazzo perché tutte le volte non lo riesco a memorizzare è incredibile comunque avete capito il modello classico che cade bello largo XS di questi 39,95 proseguiamo con questa altra maglia che è bellissima poi il colore è veramente pazzesco sono in fissa anche con questa tonalità di blu e devo dire che per fortuna trovo tante cose anche questa sembra fatta proprio per me manica leggermente a sbuffo in questo caso lunga rimane abbastanza corto ma non troppo e in più ha tutta la parte del corpetto a forma di cuore che quindi va sempre a valorizzare il décolleté e la fantasia è carinissima spero che stia rendendo perché è tutto blu con queste gocce nere di varie dimensioni molto molto bella 25,95 sempre XS ancora ho trovato questi jeans sempre bianchi si sono un po' infissa anche con i pantaloni bianchi ma perché mi sono resa conto di non averne cioè estivi ne ho tantissimi e li uso un sacco quando poi si tratta dell'invernale autunnale non c'ho mai niente di bianco e questi qui sono pantaloni a gamba larga anche in questo caso ho preso la 36 perché non c'era più la 34 quindi sicuramente dovrò portarli a far stringere però appunto aspetto comunque di sapere cosa ne pensate voi e sono di nuovo un modello classico larghissimo oltretutto sul fondo sono molto carini perché rimangono un po' strangiati ma sapete che è una cosa che noi non vedremo più sempre perché vanno accorciati e poi sono dei classici jeans a vita alta quindi passanti le classiche tasche da jeans questi qui li ho pagati 39,95 altro acquisto meraviglioso di cui io sono super contenta però fatemi sapere di tutto cioè come sempre non fatevi problemi ho trovato anche questa gonnellina bellissima questa è abbastanza corta ma non troppo ha questo intreccio sul davanti che è meraviglioso mentre sul retro rimane semplicissima è foderata però allo stesso tempo in questo tessuto molto simile alla seta quindi quello che mi sta piacendo ultimamente l'ho pagata 25,95 xs e non sto neanche a soffermarmi ma il colore e la forma sono pazzeschi e terminiamo anche con questo sacchettone con l'ultimo completo il sacchetto stava facendo danni alla videocamera questo completo di nuovo super super carino e secondo me molto bello per l'autunno ho preso il pantalone questo di nuovo taglio classico come quello bianco che vi faccio vedere poco fa tasche laterali belle comode chiusura standard sul retro ha la taschina solo da una parte e mi piace tantissimo questa fantasia per l'autunno inverno lo sapete il piede pool a me piace un sacco oltretutto non avevo assolutamente un completo simile e trovo che possa essere molto bello sia da portare abbinato che eventualmente da spezzare perché comunque entrambi i pezzi secondo me si abbinano bene con tutto e la docca invece è super super semplice a doppio petto bella foderata quindi eventualmente si può usare anche come cappotto quando iniziano magari i primi freddi e la fantasia è assolutamente identica è molto bella perché rimane sciancrata e è abbastanza lunga quindi appunto mi piaceva come idea anche per utilizzarla proprio come fosse un cappotto classico taglio bottoni le tasche qui laterali insomma sapete che con i blazer e con le giacche di Zara mi trovo sempre benissimo questa qui l'ho pagata 59,95 e ho trovato l'XS computer recuperato mi metto al lavoro sono passate circa tre ore con strati che sono praticamente le sette e io ho finito adesso di sistemare tutte le cose che dovevo fare al computer sono molto stanca ma anche molto contenta perché così domani riuscirò a godermi appieno la giornata domani praticamente saremo in montagna a festeggiare per l'ultima volta il mio compleanno con alcuni amici con cui non ero ancora riuscita a festeggiare la settimana scorsa per motivi logistici più che altro comunque contro ogni aspettativa ho finito tutto quindi auro anche la serata libera adesso penso che mi struccherò anche se un pochino mi dispiace perché sinceramente più lo guardo e più questo trucco mi convince oltretutto vi è piaciuto tantissimo anche su Instagram nelle storie che vi ho messo oggi quindi sono molto contenta poi aspetto di capire anche cosa mi direte dopo che uscirà il video e in ogni caso poi inizierò a pensare di preparare qualcosa per cena ho finito di cenare e anche di rifare il letto perché nel frattempo si sono asciugate le lenzuola si vede che andiamo verso l'autunno perché hanno impiegato molto più tempo del solito ad asciugarsi però sono contentissima perché adoro ho proprio questa fissa e adoro dormire nelle lenzuola pulite soprattutto stese al sole l'asciugatrice è comoda ma stenderle al sole è tutta un'altra cosa infatti sono contentissima di potermi mettere nel letto così pulito e sono ancora più contenta perché visto l'orario probabilmente riuscirò a vedere addirittura due nuovi episodi di Lucifer che è uscita la sesta stagione ma ieri sera sono crollata dopo il terzo episodio quindi direi che possiamo ufficialmente collassare con il telecomando sono contentissima perché sono riuscita a fare tutto e non vedo l'ora che sia domani perché si preannuncia una domenica bellissima poi tanto vi aggiorerò sicuramente su Instagram perché sicuramente domani non vloggo ma dovrei già riuscire a vloggare lunedì adesso vediamo mi sono fatta tutti i miei piani ma settimana prossima inizia proprio il momento full del lavoro quindi devo valutare senza farmi troppe aspettative strada facendo e si collassiamo 3, 2, 1 e buonanotte a domani a domani